Anche le piccole imprese possono, anzi devono, puntare sull'innovazione per esprimere a pieno le proprie capacità. Questo è il messaggio lanciato nel corso della quarta edizione del Business Innovation Festival, ospitato dal Teatro Puccini di Alto Pascio. Il festival, ideato dall'acceleratore Startup & Go e dalla Fondazione Bernardini Impresa e Sviluppo in collaborazione con l'Associazione PNI e il patrocinio del Comune di Alto Pascio, è diventato un appuntamento annuale dedicato all'innovazione e allo sviluppo delle imprese e dei professionisti. Quest'anno il tema del festival è stato quello dell'evoluzione e della crescita e in questo ambito è stato presentato un nuovo ruolo professionale che può essere proposto dai commercialisti in supporto alle imprese, quello dell'evolutore aziendale. Una figura professionale che diventa specializzato sui temi dell'efficientamento, dello sviluppo, del miglioramento continuo, quindi l'innovazione è il focus principale. Inoltre è un professionista che è attrezzato per poter fornire anche una consulenza innovativa, quindi più interattivo con il cliente e capace di gestire l'analisi dei dati. Presente anche Walter Bandoni del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero da tre anni con Industria 4.0 ha dato il via ad incentivi per la digitalizzazione delle aziende. Si tratta di aiuti che però non sempre vengono sfruttati. Il problema nostro non è tanto l'incentivo ma la comunicazione. Spesso non siamo in grado di raggiungere in maniera capillare tutte le aziende, per questo che noi abbiamo anche deciso di venire sul territorio con queste strutture che si chiamano sportelli alle imprese, per avere poi una filrugge che ci lega poi al mondo produttivo per trasferire poi le informazioni che è la cosa fondamentale. Al festival è intervenuto anche l'esperto di innovazione imprenditoriale Giancarlo Orsini, che ha tenuto una lezione ai partecipanti.